ecco qua stefano che stasera sta facendo veramente il pizzaiolo per tutti per 12 persone stasera noi stiamo qui a lavorare e loro dentro che mangiano poi andiamo anche noi però stasera proprio lavoro come stai fare la pizza per tutti mi sento ritornato lavoro però è come si dice emozionante non emozionante si mette la carica perché è stato il mio primo lavoro certo e comunque sono tutti rimasti molto 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 contenti sono tutti venuti a farci complimenti apri? apro e? tutto 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 è buongiorno a tutti allora siamo tornati alla fine ci siamo fatti solo due giorni di viaggio per il rientro Stefano aveva voglia di guidare quindi in due giorni praticamente siamo rientrati in Italia ovviamente siamo subito venuti in montagna per dormire bene stanotte ha fatto un grado fuori e ce n'erano tipo 7-8 dentro infatti abbiamo avuto un po di freddo ma perché non eravamo più abituati e quindi non avevo messo il piumone e quindi abbiamo avuto abbastanza freschino però abbiamo acceso verso le 6 del mattino il cinebasso e poi abbiamo dormito ancora abbastanza bene allora alla fine non abbiamo lavorato tutta la settimana abbiamo lavorato solo tre giorni perché alla fine poi non c'era più lavoro in vigna non si poteva più andare perché c'era troppo acqua troppo fango perché ha piovuto abbastanza e quindi abbiamo fatto solo tre giorni di lavoro il primo siamo tornati in vigna c'era ancora una vigna di uva bianca da togliere e l'abbiamo fatto in una giornata gli altri due giorni invece l'abbiamo passati a pulire le casse quelle dove svuotavamo i secchi pieni di uva a pulivamo le casse ma a fondo proprio a fondo cioè non una pulita così e basta proprio a fondo tutto il giorno due giorni ci abbiamo messo non so neanche quante casse abbiamo pulito ma tipo saranno state 500 probabilmente tantissime più i secchi dove mettevamo l'uva più le vandangette che sono le forbici con cui tagliavamo l'uva più tutti i vestiti loro puliscono anche tutti i vestiti quelli per la pioggia a grattare dal fango gli stivali tutti grattati dal fango con lo scalpellino togliere il fango che si incastrava sotto alla suola una pulizia con i controfiocchi in realtà loro fanno quindi abbiamo passato questi ultimi poi due giorni di lavoro a fare quello e qualcosa sono riuscita anche un po' a riprendere poi ovviamente la sera ci hanno invitato a mangiare insieme a loro ultima cena hanno fatto il couscous Frank un nostro collega ha la mamma mi sembra che origini tunisine no marocchine origini marocchine se non sbaglio e quindi ci ha fatto il couscous e effettivamente era proprio il couscous che fa anche la famiglia di Stefano e per noi è la prima volta perché il couscous di solito nessuno sa farlo effettivamente come viene fatto in Tunisia o in Marocco quindi figo cioè ci siamo sentiti proprio a casa è stato tutto buonissimo tra l'altro e poi ovviamente c'è stata la festa e hanno iniziato a bere 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 tutta la sera di nuovo eravamo tornati alla festa della vendemmia praticamente ma eravamo in pochissimi questa volta è stato molto 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 divertente davvero e abbiamo scoperto che Stefano quando beve parla molto bene il francese quindi gli hanno detto bevi più spesso perché così almeno riusciamo a comunicare poi il giorno dopo siamo andati a salutare ancora tutti gli altri che erano rimasti lì a dormire e sempre Frank questo ragazzo ci ha regalato una cesta di un po' di sue verdure dell'orto meraviglioso ci ha dato una zucchina gialla enorme due zucchine rotonde tantissime patate e un sacco di pomodori stra 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 buoni e abbiamo apprezzato tantissimo perché noi apprezziamo tantissimo tutto il cibo che la gente ci regala essendo che noi siamo quel che siamo e quindi l'abbiamo apprezzato veramente veramente un sacco e poi ce ne siamo andati ieri abbiamo incontrato una coppia di ragazzi che ci segue che erano anche loro a fare la vendemmia però in un altro paese un po' più vicino molto molto carini abbiamo fatto molto volentieri la loro conoscenza e poi ci hanno raggiunto altre due ragazze loro amiche che hanno fatto con loro la vendemmia anche loro straordinarie è bello incontrarsi tra viaggiatori cioè è una cosa proprio che a noi ci piace tantissimo trovarsi non in Italia con un'organizzazione con una cosa ma trovarci da un'altra parte senza organizzazione senza niente ci becchiamo sì ci becchiamo no bellissimo a noi mi piace un sacco sta cosa qua io sono ancora un po' malaticcia però molto molto migliorata rispetto a tutta la settimana che mi sono fatta con la febbre a lavorare e adesso siamo tornati ieri sera siamo arrivati e oggi rientriamo in città per andare a fare il giro dei saluti dei parenti perché alla fine non pensavamo ma alla fine siamo stati fuori casa un mese perché siamo partiti il primo settembre oggi è il 29 settembre due giorni e siamo a un mese quindi bene o male alla fine siamo stati via da casa un mese ci sta e quindi abbiamo detto a bientot alla Francia fino al prossimo anno adesso rimarremo qua in Italia a goderci l'autunno mia stagione preferita tra l'altro rientrando oltretutto abbiamo già visto un po' di colori autunnali che ci hanno emozionato un sacco noi ci fa impazzire l'autunno a goderci l'autunno e quindi adesso staremo qua ci goderemo il nostro autunno nelle nostre montagne meravigliose e basta questo è diciamo tutto l'aggiornamento che volevo darvi del mese a goderci l'autunno a goderci l'autunno la mia offerta è aspetta prima prendiamo cade tutto l'album no io voglio sostituire quelle foto eh però già che ci siamo mettiamo quelle nuove e dove l'album dovrebbe essere lì a qualche parte questo è il nostro album del matrimonio in realtà delle foto del matrimonio però ci sono un po' tutte in realtà poi si poi ho messo il matrimonio come inizio e poi continuo con tutto il resto allora eh esatto guarda che bello che c'è la foto bello l'autunno e l'inverno facciamo vedere questa foto nell'autunno con i stessi camper e questa stessi camper in inverno stesso posto va bene sì la maggior parte io ti direi anche di non sprecare tutte le stesse pagine per tutte quelle foto ma fare una scelta di quelle foto ma che dici le ho stampate apposta questa quindi no? eh ma poi è finito l'album boom boom non puoi stampare più niente eh lo so ah ok questa no quindi allora devo staccare tutte le puntine come le stacco va bene intanto che tu fai quello io mi studio il mio libro di francese no allora ho preso questo libro di francese per imparare la grammatica francese o comunque il francese in generale un libro gigante cioè per me questo è un libro gigante perché non l'ho mai letto nella mia vita praticamente e quindi con questo qua magari lo riuscirò a farmi capire di più nelle feste vediamo non lo so se riesco perché il mio cervello è molto limitato sullo studio muoio ma vabbè oh sono stanco muoio ok adesso andiamo a farci una passeggiata con questo tempaccio da lupi bellissimo a me piace un sacco questo tempo qui con anche i pantaloni del pigiama madonna col pigiama nel bosco non è da vantarsi no ma tanto non li metto come pigiama li metto come pantaloni così alla bella buona mostra no più vicino porcino trovato andiamo una foto a crie dele per essere certi però dovrebbe essere in teoria si dove e voilà pulito il gambo da dove l'ho raccolto così che può rinascere il prossimo anno nello stesso posto si è vero ah un altro eh già non pensavo di trovarne così subito se no ci prendevamo il cestino il coltellino eh davvero ne abbiamo già trovati due allora quello che ci ha insegnato ele e crie che bisogna schiacciare sotto se non cambia colore è un porcino ovviamente poi ha tutto il fatto che deve avere il gambo grosso il cappello marrone bisogna pulire anche questo sul posto si l'ho trovato qui e siamo a due allora rientriamo perché abbiamo notato abbiamo fatto praticamente due passi e abbiamo trovato quattro funghi porcini quindi siccome domani mattina veniamo con crie ed ele e ci eravamo già messi d'accordo che venivamo a funghi con loro al mattino che sono loro gli intenditori ovviamente e allora ci teniamo la zona per ispezionarla domani e riempire il mio meraviglioso cestino dei funghi che tra l'altro ho trovato qua fighissimo ma adesso non potete sentire l'odore ma comunque cioè sono fantastici varie misure poi tra l'altro speriamo di trovarne domani anche speriamo dai comunque li tengo per sicurezza per farli ispezionare domani da crie ed ele per essere sicuri al 100% che siano porcini sono porcini ma voglio avere la certezza perché comunque con i funghi non si scherza non si spiega ma voglio andare a fare ma voglio andare a fare ok a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vino per ele, se, e, me. Sant'è, Sant'è, la Francia, l'Italia. Cineri, ti sei tagliata? Minchia, vedendo le foto, cazzo. Tanto da fare. Allora, cosa è successo? Prima eravamo qui e chiacchieravamo con Cristiano e Leonora. Abbiamo detto la parola pizza e quindi, niente, sono andati a prendere le pizze. Adesso arrivano, sono arrivando, sono già partiti. Nonostante abbiamo un forno noi e un forno loro, niente, siccome pioveva, sia oggi più vicinato che domani piove, non possiamo fare la pizza e quindi abbiamo deciso di andarla a comprare nel paese sotto. Nel frattempo abbiamo acceso il fuoco, abbiamo messo la luce lì, abbiamo messo la panchina qua, abbiamo allestito tutto quanto. Adesso sto fuoco, un po' bagnatino, però dai, bellissimo. La pizza non c'erano, ragazzi. Guarda che cosa ha creato qua, con la lucina. No, è certo, è bellissimo. Sì, è messo l'impegno, è forse a fuori. Ho detto, faccio tutto l'angolino, cazzo. Manca solo una cosa, ragazzi, che non ho dietro il coltello. Ah, no, ma metti la rotella. Volete la rotella o... Sono quelle calde, mi sa, eh. Oh, le posate. No, no, perfetto. È tutto sul tavolo, prendi. Spettacolo, spettacolo. Iniziate a tagliarla, ragazzi. Io tanto mangio con coltello e fruggette. Ah, ok. No, lui per la pizza... Sono detto margherita e rucolette, boh, avrò dimenticato degli ingredienti, però mi ha scritto così. Cazzo, sono già conosciuto così. No, no, lui per la pizza è semplicissimo. Invece ne abbiamo preso, leggera, margherita con... Borgonzola, salsiccia, 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 cipolle e patatini. Ah, cipolle e patatini. Grazie, grande, spettacolo. Grazie, grande, spettacolo. Grazie, grande, spettacolo.